Benvenuti al glossario del volto del vino, io sono Davide D'Alterio e oggi scopriamo un'altra parola. Sigla! Premier cru, gran cru, cru di qua, cru di là, ne sentiamo spesso parlare, ma cosa è effettivamente un cru? Il termine cru identifica una porzione di terreno nella quale è cresciuto e si è adattato un vigneto, il quale, grazie a caratteristiche uniche quali microclima, suolo, vitigni, altitudine, esposizione, fattori umani, creerà un'uva dedita ad un vino che porterà con sé l'identità della ristretta area che rappresenta. Furono come sempre i monaci ad iniziare questa parola, si parla di secoli orsone in Francia. Si pensa che provenga dalla traduzione francese della parola crescere, croatre, di fatto identifica un vigneto cresciuto in un'area delimitata. La regione vinicola che ne incarna la più alta rappresentazione è sicuramente la Borgogna, dove in base ad una classificazione ogni parcella vitata di alta qualità è catalogata in premier cru e gran cru, dove questi ultimi incarnano l'apice qualitativo. A volte le vigne sono minuscole. Per esempio, a Bon Romainet, il gran cru de La Romainet, è solamente 0,85 ettari ed è addirittura un monopolo, cioè solo in mano ad un'azienda. In base alla loro scala qualitativa e al prestigio storico, alcuni di questi vini strappano i prezzi più alti di tutto il panorama enologico mondiale. Il termine si è esteso quasi in tutto il mondo, anche se è tutelato dalla legge e dai disciplinari quasi solo in Francia. In Italia, ad esempio, viene spesso sostituito dalla parola vigna. Come il lato umano del terroir ha influenzato su tutto ciò? Ma questa è una storia tutta umana. Pensiamo per esempio alla leggenda di Henri Jaillet e al mitico Cro-Parentoux. Prima ci coltivavano Topinambur, è lui che ha avuto l'intuizione di scegliere questa piccola parcella, sempre a Bon Romainet, in Borgogna, e di piantarci la vite, pensando che sarebbe uscito un grandioso vino, che adesso effettivamente è il più ricercato tra tutti i vini al mondo. Alla prossima parola!